Uh, basta! Ok. Ce l'ho fatta, buona la prima. Bravo, bravo, ok, bravo, grande! Sì, lanci! Noi stiamo girando. Ok. Vedi, guarda, guarda me, vedi chi gira, guarda. Ho detto, quando me la sento, giù gas. Sì. Tanto in prima. Guarda dove è quarto, guarda, davanti, guarda. Buona cosa dell'occhio lo vedi, guarda. Ok, via, via il piede della frizione, poi dai gas. Ok, gas. Gas. E mettiti di nuovo. Vedi che è sempre facile, ma non lo è. No, sembra facile, ma non lo è. Eh, lo so, eh. La sento scivolare. E deve scivolare, forte. Fala scivolare forte. Così, gas, 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 gas. Bravo. Dai. Se la faccio... Gas. Bravo. Gas, 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 gas. Così, dai che cominci a girare. Così. Bravissimo, così. Vai, vai. Piano. Quando spagli, riprenditi. Ok. Bravo, bravo. Così. Hai visto che cominci? Tieni un po' distante dalla bandierina. Ok, mi devo avvicinare un po'. Secondo me, tu devi guardare. Guarda qua davanti. E con la coda dell'occhio guardi la bandierina. Non sta tutto girato così. Se no, rinvecillisci. Tu guardi davanti e guardi un po'. La vedi con la coda dell'occhio? Sì. Poi dai gas e tu poi la vedi quando sei di traverso. Vai. Dai. Più frizione. Ok. Eccolo, vedi? E di che la vedi la bandierina adesso? Aspetto, sì. Quando sei di traverso poi la vedi. Sì, sempre lo può. Bravo, bravo. Come faccio a riprendere il controsterzo? Mezza frizione, sempre? No, 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 no. È il gas. Ormai scivoli. Ah, no. E devi... Perché sai che cosa fa? Adesso vai, ti spiego. Dai, fai intanto. Guarda. Diventare più gas. Ok. Bravo, bravo, bravo. Dai, che l'hai fatto uno intero, hai visto? Guarda, guarda. Quindi lascio la frizione e solo gioco di salto. Solo gas. Bamba, via il piede della frizione. Guarda qua, no. No, lo zero non si usa il freno. Non so, solo barbino. Solo gas. Guarda, mi consigli di tenerlo dritto, giusto? Sì, non ti devi focalizzare troppo sul centrale perché sennò praticamente lo investi. Ah, ma tu ci vedi qualcosa. Quindi io guardo dritto e la vedo con la coda dell'occhio. Esatto, importantissimo. Ok, non sei ancora di traverso. Non ti preoccupare, prova, bravo, Luca. Bravo, grazie. Ok, 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 ok. Ok, fermati. Hai imparato a buttare nel traverso. Perfetto, ora. Due cose da non fare. Non serve sbracciarsi. Ok, è la cosa che non voglio fare. Esatto, ma il problema è che questa macchina è naturale, ok? Quindi, nel momento in cui senti che la macchina va dritta, devi dare gas. Ok? Devi accelerare. Lo so che ti sembra strano. Se no, la macchina va dritta. Poco sterto. Colpi devono essere... Esatto, Davide ti ha fatto già vedere. Quindi, arrivai, di nuovo, vai. Una volta che parto, dai gas e molli il gas. Dai gas e molli il gas. Vai, gas, stop. Lascia la... Bravo, ok, nuovo. Grande! Bravo! Passa! Ok. Ce l'ho fatta, buona la prima. Ok, ultimo errore. Il gas deve essere costante. Quindi io non devo fare... Perché ce l'ho sempre a metà. Allora, tu hai fatto bene, esatto, metà gas. Quindi, dai molli, dai molli, dai molli. Poi, tu ad un certo punto hai fatto... Ah, 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 ah. Andare in su con il gas. Ah, ma è solo giro. Esatto. Quindi, no, deve essere costante. Non devi eccedere, né dare troppo poco, se no la macchina si traversa, né eccedere. Ok? Ok, dai. Sì. Ok. Gas! Bravo! Molto bene! Molto, molto bene! Bravo! Lasciala, lasciala! Di nuovo, di nuovo, riprendilo subito! Cazzo, roccole! Va bene. Va bene. Vedi che quando sposti lo sguardo e non ti focalizzi sulla bagnina, riesci a farlo? Sì, è vero. Tu ad un certo punto hai cambiato, cioè stavi così e ad un certo punto sei rimasto così. Sì. Ok? Di nuovo. Cosa facciamo? Niente. Allora, acquisiamo velocità. Ok? Nel momento in cui, diciamo, devi approcciarti alla curva, che in questo caso viene segnata da quella bandellina che vediamo lì, che facevamo il 360. Sì. Esatto. Imposti la curva, ok? In questo caso, verso sinistra. Sì. Schiacci la frizione. A questo punto, quando la frizione è giù, tiri la leva del freno a mano, innescando, cosa succede? Le ruote posteri vengono bloccate e inneschi la derapata. Ah, ok. Quindi non cerco io il traverso con il gas. No, perché quello è il power slide. Ok. Praticamente, quindi fai prima, seconda, ok. frizione, frizione, non sveva. E poi nemmeno. Però noi ci fermiamo, come ti ho detto, iniziamo al freno a mano. Esatto, bravo. Ok. Allora, abbiamo detto, mi tengo largo, frizione, insieme. Allora, acceleri, imposti la curva, frizione, leva, moli la frizione. Ma la frizione la spingo fino in fondo? Sì. Ok, va bene. Proviamo. Do metto la seconda? Sì. Ok, imposta, frizione, leva. Ok. Cosa è successo? Non hai probabilmente schiacciato la frizione o ho tirato bene la leva, perché ho visto che hai fatto così. Un po' più brutale. Come ti dicevo, devi innescare il meccanismo utilizzando la frizione e la leva. Ok. Va bene. Vai, vai. Seconda, imposta, frizione, leva, leva. Ok. Più decido ancora. E' fatto così. Ok, una domanda. Ma il frenamano lo tengo tirato e nel frattempo lo lascio scorrere lo steggio. Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Lo lascio andare la macchina nella direzione. Quindi la lascio semplicemente scivolare. Esatto. Vai. Perché non dai gas? Ok. Stasera non dormo, già ne ho dormito ieri. Mi sono andato. Stasera, sto. No, no, no. Vai. Ok. Gas, 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 gas. Perché? Perché lo lasci andare? Lascialo scorrere, poi riprendi il volante. Lo lascio scorrere per un secondo, non per il tempo. Ah, ok. Vai. Vai. Riprendi, bravo. Lo vedi che se la riprendi... Ce l'ho fatta. Se tu la lasci andare, la macchina va dove vuole lei. Ce l'ho fatta. Traverso perfetto, questo. Eh? Vi posso dire bravo. Bravo. Mi sono soffermato su Traverso. Sai che ti ha in testa la scintilla? Allora, il problema... Sai qual è il problema? È che questa cosa qua, di solito la fanno bene le donne, perché noi facciamo 500 cose insieme, voi invece che riuscite a farlo una per volta, allora, state pensando ancora al Traverso di prima, invece lo avete da ragazzo. Vado anche a questa. 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 Cos'era un powerslide questo? Di nuovo, come prima. È troppo piano, che schifo. Quindi, a un certo punto vi autocorreggete la sua. Bella questa. Bravo. Questa merita. Questa diventerà storia. Sì, io sono uno che impara in fretta quando si tratta di macchine di muto. Sei un diesel, ti devi scaldare. Adesso. Ciao. Grazie a tutti.